queste sono due delle nostre femmine di Uoma 2008 Uoma è un morph molto simile allo spider diciamo un brutto spider con pochissimo bianco ai lati è un morph dominante, non ha una superforma perché il Pearl è la superforma di certi Uoma è la superforma degli Uoma con genere nascosto di nerd diciamo accoppiando due Uoma normali come questi si ottiene uno come lo spider si ottiene un morph che non differisce dall'eterozigote ammesso che ci sia poi una superforma come si vede hanno un disegno ridotto spettacolo Grazie.